abbiamo perso la prima partita 1 a 0 per Roma aspettiamo 48 ore per rimettere la palla in gioco abbiamo fatto un terzo quarto con pochi punti abbiamo fatto 3 su 11 totali sbagliando dei tiri in qualche modo ben costruiti in qualche modo ogni tanto forzati è stato lì il parziale che da più 4 siamo andati a meno 4 e poi dopo è stato un continuo punto a punto e purtroppo abbiamo avuto la peggio non hanno tirato meglio da tre punti ci hanno fatto un po male sul pick and pop con i due lunghi tra Cerci, Bobby Jones e Kanacevic hanno fatto il 47% da tre siamo due squadre che un po' vivono di questo e sicuramente abbiamo pagato la peggio percentuale da tre punti adesso risentiamo tutto quanto ci prepariamo per la prossima sperando di riuscire a portare il risultato mi sembrava che è sembrato per lunghi momenti in una partita di playoff cioè con la necessaria cattiveria cioè che non c'era non è facile stare fermi per nove giorni di fila poi giocare con questa tensione con questa e con questa importanza è chiaro che loro hanno qualche giocatore forse un po' più esperto in qualche momento soprattutto con i due lunghi sono riusciti a fare qualche canestro in più però noi sicuramente un pochino abbiamo subito con dei percentuali un po' di tensione dei percentuali di tiro da fuori e anche con qualche libro importante sbagliato non so mi è sembrata abbastanza agonistica la partita magari non ho la mia sensazione grazie 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 grazie